Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni si è riunita per l'intera giornata di martedì 13 luglio per discutere la relazione sull'attuazione del programma della Giunta, le interrogazioni e risposte immediata e le emozioni. I lavori sono stati aperti dalla Presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha stilato un quadro degli obiettivi raggiunti nello scorso anno e di quelli che l'esecutivo, a causa della pandemia, ha dovuto rinviare a un periodo successivo. La Presidente ha sottolineato che le scelte adottate dalla Giunta hanno consentito all'Umbria di uscire dalla crisi post-Covid, attestandosi su parametri economici uniformi a quelli nazionali. La ripresa economica, il rafforzamento del sistema sanitario e di quello dell'istruzione, le misure per affrontare il calo demografico e la cura dei giovani saranno alcune delle priorità che verranno perseguite nei prossimi mesi. Nella parte della seduta dedicata alla Question Time, le interrogazioni e risposta immediata, la consigliera Simona Meloni del Partito Democratico ha chiesto all'assessore Paola Agabiti se la Giunta intende prorogare i termini ed allargare la platea di accesso al contributo previsto nell'avviso pubblico relativo ai ristori per associazioni e società sportive dilettantistiche. L'assessore ha risposto che la Giunta ha assegnato 2.150.000 euro alle associazioni e alle società sportive operanti in Umbria, la cui attività sia stata ridotta a causa di provvedimenti nazionali o regionali. La scadenza del bando è stata prorogata proprio per consentire alle associazioni dilettantistiche di parteciparvi. I consiglieri della Lega hanno interrogato l'assessore regionale Enrico Melasec per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della E78 Grossetofano, in particolare nel tratto Umbro. Enrico Melasec ha risposto spiegando che sono in corso sollecitazioni verso Toscana e Marche, anche se per completare l'opera servirebbero risorse finanziarie importanti. Il capogruppo regionale della Lega Stefano Pastorelli ha interrogato l'assessore Roberto Morroni per conoscere indicativamente quali siano rispettivamente le problematiche e le tempistiche previste per il ripristino messa in sicurezza e riapertura del tracciato denominato Francescana, posto a servizio dell'invaso della diga Chiascio. L'assessore Morroni ha spiegato che si tratta di una viabilità creata per i lavori di gestione della diga e riservata ai soli residenti. Andrebbe prevista una convenzione tra i comuni interessati e lente Acque Umbria e Toscana, che sono rilente dalle responsabilità della gestione. La strada andrebbe riclassificata come viabilità comunale e i comuni dovranno prendersene carico e regolare la circolazione. Daniele Carissimi, consigliere regionale della Lega, ha chiesto all'assessore Enrico Melasec lo stato di avanzamento dei lavori di completamento dello svincolo di Piediluco e se è veritiera la data del 30 luglio 2021 per l'apertura dello svincolo stesso. L'assessore Melasec ha garantito che entro il 31 luglio verranno aperti gli svincoli. Abbiamo preso contatti, ha detto con la provincia, perché la strada provinciale ad oggi non è adeguata. C'è quindi bisogno del consolidamento del ponte conclusivo che va sul lago, che non permette il passaggio dei mezzi pesanti. Il consigliere Tommaso Bori del Partito Democratico ha interrogato l'assessore Luca Coletto per conoscere i tempi di realizzazione del parco terapeutico del Subasio al fine di avviare il progetto che si ripropone di avere una valenza innovativa e sperimentale e per sapere quando verranno attivati dei servizi alle persone affette da disabilità psichiche e fisiche e ai pazienti affetti da sensibilità chimica multipla. L'assessore alla sanità Coletto ha detto che Spello e Assisi sono in fase di ultimazione per quanto riguarda i lavori murari. Il progetto rientrerà nel nuovo piano sanitario. Purtroppo nel Lazio, ha detto, una struttura simile è stata chiusa a causa del non riconoscimento del governo. L'auspicio è che la sensibilità chimica multipla venga riconosciuta e inserita nei livelli essenziali di assistenza. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, ha chiesto all'assessore Michele Fioroni quali sono le informazioni in possesso della Giunta regionale circa lo stato d'attuazione del progetto Leolandia in Umbria e le reali prospettive tempistiche di realizzazione dell'opera. L'assessore Fioroni ha risposto che c'è interlocuzione continua con Invitalia tramite Gepafin. È necessario favorire una serie di precondizioni finanziarie per la realizzazione del parco, come il reperimento di altri 8 milioni di euro. Purtroppo la concessione definitiva, ha detto l'assessore, ha coinciso con la dichiarazione dello stato di emergenza, quindi si è andati avanti con una proroga di sei mesi poi di altri sei e i soggetti investitori stanno predisponendo una revisione del progetto. Il consigliere Fabio Paparelli del Partito Democratico ha chiesto all'assessore regionale Michele Fioroni a che punto si trova la procedura di proroga dell'area di crisi complessa di Terni e Narni e quale sia la prospettiva di ulteriori finanziamenti nazionali. L'assessore Fioroni ha risposto che si è a un punto di arrivo con la proroga dell'accordo che avverrà entro il mese di luglio. Sarà però necessario, ha aggiunto, un aggiornamento dell'area di crisi complessa e costruire una nuova dotazione finanziaria per il rilancio del polo chimico di Terni senza trascurare la siderurgia. Il consigliere Michele Bettarelli del Partito Democratico ha chiesto all'assessore Luca Coletto se sono stati rispettati gli impegni presi nella mozione approvata all'unanimità a maggio dall'Assemblea Legislativa circa una programmazione finalizzata a salvaguardare le case per anziani umbre e i posti di lavoro. L'assessore Coletto ha risposto che una commissione apposita ha lavorato alla revisione delle tariffe e a giorni arriverà la proposta sugli standard in giunta standard che saranno presi come base di calcolo. Verificheremo, ha assicurato l'assessore, l'opportunità di ulteriori interventi attraverso la richiesta di tutte le regioni in Commissione Nazionale Salute. A seguire, l'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità dei presenti la mozione promossa dai consiglieri della Lega Paola Fioroni, vicepresidente Assemblea Legislativa e Stefano Pastorelli che impegna la giunta regionale ad intervenire presso il governo affinché siano messe in atto tutte le azioni necessarie per l'inserimento della maculopatia nei LEA ai livelli essenziali di assistenza. Parere completamente favorevole anche per la mozione promossa da Daniele Carissimi della Lega che prevede la riconversione sostenibile del polo chimico ternano-narnese attraverso la valorizzazione sostenibile degli scarti della filiera agricola, investimenti in sviluppo e ricerca nell'industria del settore, dei biomateriali e delle tecnologie verdi. Tutti i consiglieri regionali hanno votato favorevolmente anche la risoluzione firmata dai componenti della terza commissione Eleonora Pace, Fratelli d'Italia, Stefano Pastorelli della Lega, Andrea Fora, Patto Civico, Michele Bettarelli, Partito Democratico, Francesca Apepucci e Paolo Affioroni della Lega e scaturita dalla mozione dei consiglieri Andrea Fora, Patto Civico e Tommaso Bori del PD che chiedeva all'esecutivo di Palazzo Donini impegni della giunta regionale in materia di appalti, soprattutto per quanto concerne i servizi sociali e sociosanitari. L'Aula ha poi approvato con i voti di tutti i presenti l'atto di indirizzo del consigliere Vincenzo Bianconi, gruppo misto, che impegna la giunta regionale ad intervenire per il ripristino della operatività dell'ospedale di Norcia e del distretto sanitario della Valnerina, interventi immediati finalizzati alla tutela della salute delle popolazioni residenti e dei numerosi visitatori che frequentano la zona. Bocciata è invece a maggioranza la mozione promossa da Donatella Porzi del PD che chiedeva l'impegno della giunta a destinare risorse finanziarie specifiche e ricorrenti alla città di Assisi finalizzate all'organizzazione di eventi ordinari e straordinari laici e religiosi che promuovano il brand della destinazione Umbria ad istituire un comitato regionale per la promozione del giubileo 2025 in Umbria e dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ed è tutto per questa edizione di Telecrullis il notiziario nella lingua dei segni frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale dell'Umbria.